è lunedì al giovedì 8 ore poi venerdì sono la mattina vabbè adesso con lo stage guarda 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 oh cristo anche se va dove vuoi che vada tiene la corrente qua solita fioretto da 10 comunque è bello figa ma che gnocca bel pesce ma cosa c'ha sulla coda è un po' spragato la canna è buona è andamato di merda è andamato veramente di merda prenderlo per la bocca eh lo so no è andamato di merda essere pappata eh oh ci sta acqua a 8 gradi perca no ma il siruro ha gradito leveling lada 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 lada